Ministro, siamo il benvenuto e vai, devo fare la rivoluzione della pubblica amministrazione partendo da quelli che non lavorano, noi le proponiamo invece di partire da quelli che lavorano e dagli utenti dei servizi pubblici, invece di pensare a simpatizzare, a prendere ordine con cui inutile, dalle banche, perché non ha ascoltato i cittadini, i lavoratori, i malati, i pensionati, 40 ore per una tasca che possiamo dire, sovrapportenere 40 ore per una tasca invece che per licenziare quelli che non lavorano, oppure 48 ore per una pensione di invalidità o per il rimborso delle tasse, Ministro ci dica qualcosa, perché invece di pensare ai ricchi e ai potenti non pensate a quelli che hanno bisogno in questo Paese? Cosa ci dice Ministro? Volete ridurre anche gli stati di democrazia, anche con la rivoluzione dei compagni, perché volete far sparire quelli che raccontestano, quelli che fanno conflitto in questo Paese? E volete soltanto i complici? Confindustria, CGL, CISL e WI? Vergogna! Vergognatevi! Non rappresentate nessuno, non siete stati eletti con questo mandato!